Salve a tutti e ben ritrovati alla consueta rassegna stampa del settimanale Il Ponte. Oggi sfogliamo assieme l'ultimo numero di aprile, quello che porta alla data di domenica 26 aprile, ma come sempre già disponibile nell'edicole e nell'app già da giovedì 23 aprile. Ricordiamo, visto che abbiamo citato l'app, che ancora in questo periodo di quarantena l'app è gratuita per tutte le persone, è sufficiente collegarsi all'app, il link lo trovate anche sul sito del settimanale Il Ponte, ilponte.com, per accedere, sfogliare gratuitamente gli ultimi numeri e condividerli. Ed è quello proprio che ci apprestiamo a fare noi con l'ultimo numero di cui adesso guardiamo la copertina. La fotonotizia è dedicata all'ultimo saluto al Vescovo Mariano Di Nicolò, che è mancato proprio la scorsa settimana e ci saranno all'interno anche degli approfondimenti che adesso vedremo. L'editoriale, invece, a firma di Giovanni Tonelli, è dedicato al turismo, uno dei temi più caldi ed attualità ora che si sta prestando la stagione estiva, ma sicuramente sarà una stagione molto diversa e molto particolare rispetto a cui siamo abituati, proprio a causa di quello che sta avvenendo. Approfitto, visto che parliamo di app, già negli scorsi video abbiamo visto un po' anche come funziona, per parlarvi di un'altra particolarità dell'app, ovvero gli arricchimenti. Ogni tanto vedete all'interno delle pagine questi bollini rossi, sono come i link sulle pagine, ovvero degli approfondimenti che vengono inseriti nelle pagine del giornale che rimandano ad altri siti, video o materiale che è stato ritenuto dalla redazione interessante come approfondimento all'articolo. Ad esempio, quello che vediamo qui, la manina sulla copertina, sul titolo del ponte, rimanda al sito internet del ponte. cliccando sul bollino rosso si apre il sito internet del giornale. Quindi un ulteriore approfondimento alle notizie che già troviamo sul giornale. Entriamo adesso nelle pagine, come abbiamo accennato, le prime due, una doppia pagina dedicata proprio al Vescovo Mariano De Nicolò. L'11 aprile, sabato santo, è morto Monsignor Mariano De Nicolò, Vescovo Emerito di Rimine, pastore della nostra chiesa per 18 anni. Ha avuto a cuore fino alla fine la nostra cara diocesi, da lui appassionatamente amata. Il pezzo, l'articolo in questa pagina, firma del Vescovo Francesco Lambiasi. Di fianco ancora si parla di Mariano, era la sua terra come la sua chiesa. Si ripercorrono le tappe della sua vita come Vescovo Arimini, il seminario, la missione, la crescita del laicato, i media, le aggregazioni laicali, le tematiche del territorio, la caritas e molto altro ancora. A pagina 4-5, come sempre, troviamo la settimana, firma di Francesco Barone, quindi il panorama della cronaca appena conclusa. Anche in questo caso, argomento caldo, è quello del turismo. Il turismo deve ripartire al più presto. Queste sono le parole della sindaca di Riccione, Renata Tosi. Proseguiamo con il giornale. Un'altra doppia pagina che è diventata consueta in questo periodo, ovvero l'aggiornamento sulla pandemia e sulla quarantena da coronavirus. A pagina 7, come sempre, troviamo una serie di aggiornamenti, mentre il servizio di apertura, diciamo così, di pagina 6, è dedicata ai test sierologici di cui tanto si parla, che sono in qualche modo collegati alla riapertura e alla fase 2, ma ci sono parecchi dubbi al riguardo. Proseguiamo con il giornale. Ci torna su questo numero la rubrica di Fabio Parri, dedicata a Rimini Web, ovvero come viene raccontata, da Rimini in giro per il mondo con articoli e video trovati su internet. Troviamo ad esempio una panchina a Riccione, star di Google Map, a cui è dedicato un articolo da un magazine francese, mentre invece in Inghilterra si parla di Eutiches e della Domus del Chirurgo. Pagina 9, un'intervista al 118, i primi contagi, le incertezze, le grandi risposte. Anselmo Torri, infermiere, parla un po' di come il 118 ha vissuto questo periodo di lavoro intenso. A pagina 10, invece, un altro argomento che è tornato spesso in questi numeri, perché, ricordiamo, è passato purtroppo un po' in sordina per i casi della cronaca, ma il 2020 è il centenario della nascita di Federico Fellini. Proprio al grande regista riminese, il settimanale Il Ponte, ha dedicato numerosi articoli e approfondimenti e in questo si parla del rapporto tra Fellini e la fede. Proseguiamo perché cominciano le pagine della vita della Chiesa. Come si affronta la fede in questo periodo in cui è difficile incontrarsi e fare comunità, scusate, non è tempo di crisi, ma opportunità. In questa pagina raccontiamo come ha reagito la nostra diocesi e come appunto ha reagito anche la pastorale giovanile in questa situazione di difficoltà. Le altre due pagine della Chiesa sono dedicate purtroppo a due altre personalità della Chiesa riminese che sono mancati in questo periodo, Don Ferruccio Cappuccini e il diacono Maurizio Bertaccini, due persone molto amate che purtroppo ci hanno lasciate. Ancora il rapporto tra fede e periodo di difficoltà. Una cinquantina di sacerdoti riminesi si sono ritrovati in videoconferenza per confrontarsi come vivono le comunità, il presente, come saranno chiamate a vivere il tempo che ci attende. Il titolo, lo vedete sullo schermo, è il tempo del silenzio e dell'ascolto. Ultima pagina di vita della Chiesa, a cinquant'anni dalla morte di Carla Ronci, il ponte ha raccolto la testimonianza di Dolore Sermetti che l'ha conosciuta come amica e confidente e qui appunto racconta la sua esperienza. Le pagine di Storia e Storia ci portano invece in un passato non troppo recente, siamo ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando il titano San Marino neutrale viveva un relativo benessere, il mercato nero di San Marino. La diffusa povertà in Italia portò soprattutto nel vicino territorio riminese alla nascita di un vero e proprio mercato clandestino di generi alimentari e non solo. Ancora cultura, il ponte ci parla di un dipinto davvero sui generi, Maria la pompiera, la Madonna che spruzza il suo latte sulle fiamme del Purgatorio per spegnerle o attenuarle. Proseguiamo ancora cultura e spettacoli con un'altra rappresentazione della Madonna, questa volta senza nome e senza autore. È accanto a Papa Francesco nelle celebrazioni a casa Santa Marta. Quella statua bronzia riporta a Rimini lo scultore Enrico Manfrini Farnè, lo scultore dei Papi che ha lasciato il suo timbro in Duomo, e a Montetauro. Vediamo adesso velocemente le pagine della provincia, quali sono le notizie principali. A Verucchio la generosità è nel carrello, un progetto Caritas, carrello amico. In sei esercizi è possibile donare beni di prima necessità in carrelli della spesa, iniziative anche a Nova Feltria. Mentre invece a Savignano si parla dell'area sgambamento di via Lapira per cani e gatti, in arrivo novità. Siamo a San Marino, non temete, nessuno sarà lasciato solo, è il messaggio dei capitani reggenti in questo momento di difficoltà. Mentre invece nella pagina di Riccione Valconca si parla purtroppo dei numerosi eventi annullati in queste settimane a causa della quarantena. Siamo arrivati in chiusura e nella pagina sportiva, visto che anche lo sport purtroppo in questo periodo è bloccato, si parla dei 70 anni di Libertas, la polisportiva che ha da sempre un obiettivo, offrire ai ragazzi un ambiente dove fare sport rispettando i principi educativi di base. Noi siamo arrivati in chiusura del numero di questa settimana. Io vi ringrazio per averlo sfogliato assieme a noi e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.